Fine partita al Palabucalo col coach del Barcellona, Domenico Fazio. Mister, una partita senza storia? Sì, una partita senza storia. È giusta la definizione. Abbiamo incontrato un avversario che ci ha messo tutto, noi ci siamo riusciti a mettere veramente poco in questa gara. E quindi il risultato è la degna conclusione di tutto ciò. Senta una cosa, la vostra squadra viene tratta tra le più accreditate per la vittoria finale. Incontrandovi questa sera con il Santa Teresa, che è una delle altre favorite, lei quali pensa che sono i valori reali di questo campionato? Secondo me stilare pronostici a inizio anno, dire chi è favorito e chi non è favorito è veramente poco, perché comunque si fanno dei pronostici solamente sulla base del sentito dire. Sicuramente sono due squadre, sia la mia che è il senatore della partita di stasera, sia il Santa Teresa, due squadre tra le più accreditate a fare un buon campionato. Però è chiaro che la strada è ancora molto lunga. Senta una cosa, secondo lei qual è stato il motivo, il light motive di questa sconfitta da parte sua e vittoria dalle avversarie? Qual è stato il fattore determinante? Sicuramente la battuta loro e la ricezione nostra da un punto di vista tattico, poi è chiaro che loro comunque ci hanno veramente messo tanto, noi siamo entrati sin da subito un po' in difficoltà, abbiamo perso il filo del discorso, non siamo riusciti poi a fare tutto quello che avevamo preparato e che avevamo pensato di dover fare alla vigilia di questa gara. Senta una cosa, al di là del Barcellona e del Santa Teresa si parla molto del Savio, si hanno poche notizie della squadra palermitana. Lei che sicuramente è un addetto ai valori, come vede, ripeto, in partenza questa griglia di valori? Guardi, è un campionato secondo me molto equilibrato, nel senso che non ci sono, a differenza degli anni passati, delle squadre fra virgolette Matarazzo. Sono tutte squadre che possono, secondo me, ambire tranquillamente a uno dei primi quattro posti che vale i play-off. Si dice bene del Savio, obiettivamente l'ho visto poco, di questa squadra di Palermo anche io ho pochissime indicazioni, però ripeto, è un discorso, ci sono sempre dei discorsi fatti così, sulla carta, in partenza, poi il campo dice altro. Grazie mister, in bocca a lui. Prego, grazie.